Assessore Talamelli, l'intervento che si farà a Montessasso non è l'unico che è stato programmato ed eseguito per la protezione della costa fanese. Che cosa è stato fatto e che cosa c'è ancora in ballo? Allora, per quanto riguarda Montessasso, come appena ha spiegato l'ingegnere, lì il lavoro è molto complesso e si tratta di tantissima quantità di scogli. E quindi è per questo che la cifra è molto alta, che con 4 milioni e 2 riusciamo a fare solo 3 scogliere. Io personalmente ho suggerito ai tecnici, stiamo valutando, che abbiamo fatto un tavolo anche con il presidente degli operatori balneari, un tavolo di esecuzione, perché ho tanta esperienza, ho fatto il bagnino 24 anni, quindi vivo sul mare, ho sempre vissuto sul mare e lo conosco molto bene il mare, di far sì che possiamo mettere in sicurezza anche le altre spiagge, perché se si fa solo un piccolo stralcio di 3 scogliere andiamo anche a distruggere a nord e a sud. E io l'ho vissuta proprio sulla mia struttura anni fa. Allora ho dato dei consigli che adesso stiamo valutando insieme se si possono eseguire, sempre pur mantenendo lo stesso progetto, non alterando nulla, in modo che i lavori possano andare avanti, perché se si fa un altro progetto va a finire che poi si passano avanti con i tempi, si allungano i tempi. Poi c'è anche Fano Nord, c'è anche la pista dei go-kart. Abbiamo un progetto a Fano Nord che è stato sempre finanziato di 239 mila euro, credo, appunto, e ho già avuto un incontro con gli operatori e le problematiche. Io sono passato da tutte le spiagge a vedere insomma come sono le realtà e quello lì arriverà dal progetto, da l'Arzilla, Bagna Arzilla, sino a forse sei ore. E quello è un lavoro molto complesso, che ci vorrà tempo, diciamo, anni, non è immediata la cosa. Per quanto riguarda invece lì al bersaglio, quelle tre scogliere, è già stata effettuata, vinta la gara, effettuato l'appalto, tutto quanto, e si aspetta appunto che vengono portati gli scogli. Ho avuto un incontro proprio con l'armatore che fa tutti questi lavori, l'operatore, e lì potrebbero partire in concomitanza a ottobre, purché ci siano tutte le garanzie del lavoro, diciamo. C'è un problema più burocratico di lavoro esecutivo.